La notte di Halloween dovrebbe essere la notte più spaventosa dell'anno. I fisici per questo hanno deciso che oggi è il Dark Matter Day, una delle cose più oscure della fisica. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di fisica in pillole. Oggi parleremo di Dark Matter, cioè materia oscura, ma prima di parlare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di seguirmi anche sugli altri social. Cos'è la materia oscura? Prima di tutto per capire che cos'è la materia oscura dobbiamo capire da cosa è composta la materia ordinaria, quella che conosciamo tutti. La materia ordinaria è composta da particelle. Elettroni, protoni, neutrini, quark. Tutte particelle elementari e non. Cosa significa particelle elementari e non? Con le attuali conoscenze le particelle elementari sono quelle che sono indivisibili. Poi esistono le particelle non elementari. Poi esistono particelle come protoni e neutroni, che sono composte per esempio dai quark. Queste particelle compongono la cosiddetta materia ordinaria. Quanta ce n'è nell'universo? Solo il 4%. E tutto il resto? La rimanente parte è composta per il 30% da materia oscura e la restante parte ancora da energia oscura. La materia oscura non a caso è detta oscura. Noi riusciamo a vederla senza vederla. Mi spiego meglio. Essendo oscura è invisibile all'occhio umano. Ma perché è invisibile all'occhio umano? Perché non emette radiazione elettromagnetica. Cioè non emettendo luce non può arrivare ai nostri telescopi e noi non possiamo vederla. Ma noi riusciamo a vederne gli effetti. Già negli anni 30, osservando la chioma di Berenice, c'era qualcosa che non tornava. Quella masso di galassie stava insieme e c'era una massa che non tornava. Perché quelle galassie con le stelle di cui erano composte non avevano sufficiente massa a rimanere unite. Perché non c'era sufficiente attrazione gravitazionale da poterle tenere insieme. Quindi ci doveva essere una materia invisibile che le teneva insieme. Fu grazie agli studi di Vera Rubin e Louise Wolders negli anni 60 che si riuscì a comprendere qualcosa in più sul nostro universo. Con le loro osservazioni si riuscì a misurare con molta precisione la velocità che avevano le masse all'interno delle galassie. Facciamo un parallelo con il nostro sistema solare. Immaginiamo i planeti più vicini. Prendiamo per esempio Mercurio e poi prendiamo uno degli ultimi pianeti Urano, Nettuno, uno molto vicino e uno molto lontano. Quale vi aspettate che ruoti più velocemente intorno al Sole? Mercurio. Perché mi aspetto che i pianeti che si trovano più vicino al Sole ruotino più velocemente? Perché risentono maggiormente della trazione gravitazionale. Per questa ragione vanno più velocemente. Quelli che si trovano ad una distanza maggiore risentono meno della trazione gravitazionale del Sole per cui ruotano lentamente. E in teoria dovrebbe funzionare anche per le galassie. La velocità di un oggetto che ruota intorno ad un altro oggetto è facilmente ricavabile dalle leggi della meccanica. Funziona così il nostro sistema solare? Perché le altre galassie non dovrebbero rispondere a queste leggi? Quello che si aspettavano è che le masse che si trovavano in periferia si dovessero spostare ad una velocità minore. In realtà quello che osservarono è che la velocità era costante in tutti i punti della galassia. Tutte le masse all'interno di una galassia si spostano ad una velocità più o meno costante. Quindi ci doveva essere un'ulteriore massa che tenesse insieme queste stelle, queste masse e che le facesse spostare tutte le stesse velocità. Ovviamente dopo questo risultato rivoluzionario si è continuato a studiare la velocità delle masse nelle galassie per avere ulteriori conferme. E tutti gli studi che si sono susseguiti hanno confermato questo risultato. Il che significa che c'è qualcosa che non conosciamo del nostro universo. Quali altre evidenze scientifiche ci fanno pensare che c'è questa materia oscurea che permea l'universo? Le lenti gravitazionali. Che cosa sono le lenti gravitazionali? Sono un fenomeno previsto da Einstein nella sua relatività generale. Lo spazio-tempo in presenza di una massa grande come per esempio quella di una stella si curva e noi riusciamo a vedere attraverso la stella. Voi non vedete quello che io ho alle mie spalle perché ci sono io davanti che ve lo impedisco. Però che cosa succede? Se io fossi abbastanza massiva come una stella voi riuscireste a vedere quello che io ho alle mie spalle perché la luce viaggia in traiettoria retta. Ma retta perché il nostro spazio è equilideo è come lo conosciamo per noi una retta è diritta. E voi immaginate invece di curvare lo spazio quello che succede è che una linea retta non è più una linea retta. Lo possiamo vedere con un semplice esperimento. Provate a disegnare su un palloncino una linea retta e poi cominciate a gonfiare quel palloncino. Quello che vedete è che la vostra linea era inizialmente retta ma poi quando il palloncino si gonfia diventa una curva. E la stessa cosa succede con le masse del Sole e delle altre stelle. Cosa c'entra tutto questo con la materia oscura? Noi abbiamo detto che non la vediamo perché è oscura ma sappiamo che fa da lente gravitazionale quindi ci deve essere qualcosa che effettivamente è nello spazio e che noi non riusciamo a vedere ma vediamo i suoi effetti gravitazionali. Un altro modo di vedere la materia oscura è quando si scontrano due galassie perché noi riusciamo a vedere la differente interazione tra la materia ordinaria quella che noi conosciamo è la materia oscura perché si comportano in maniera totalmente diversa perché non possono interagire tra loro se non per due forze forza gravitazionale e forza nucleare debole. Un'altra prova sono le simulazioni numeriche. Simulare il nostro universo senza la materia oscura ci porta a dei risultati completamente diversi dalla realtà quindi evidentemente ci deve essere questa materia oscura sul fatto che la materia oscura ormai esista ci sono pochi dubbi quello che però resta da chiarire è da cosa è composta la materia oscura? Prima teoria è composta da materia barionica che cosa significa materia barionica? cioè è composta dalla stessa materia ordinaria che conosciamo anche noi l'unica differenza di queste particelle con la materia a cui siamo abituati è che non emette radiazione una seconda ipotesi prevista dalla teoria delle supersimmetrie è che la materia oscura sia composta da gemelli delle particelle a cui siamo abituati quindi gemelli dei neutrini degli elettroni dei quark eccetera queste particelle però non sono state ancora trovate nessun esperimento attualmente ha dimostrato l'esistenza effettiva di queste particelle trovare delle particelle che interagiscono però debolmente con la materia ordinaria è difficile ci sono diversi modi primo modo per esempio al CERN nell'LHC si cercherà di aumentare l'energia proprio per cercare queste particelle un altro modo è cercare di rivelare la materia oscura già esistente intorno a noi noi sappiamo che è tra di noi e quindi dobbiamo cercare di trovarla non possiamo vederla ma sappiamo che interagisce non solo gravitazionalmente ma per forza nucleare debole essendo forza nucleare debole è più difficile trovarlo quindi si usano dei particolari rivelatori di particelle in cui il rumore è veramente bassissimo in modo tale da vedere un'eventuale particella della materia oscura passare e interagire debolmente un altro modo per trovare le prove dell'esistenza della dark matter è osservare l'universo io all'inizio del video vi ho anche parlato di una cosiddetta energia oscura l'energia oscura è stata teorizzata per spiegare l'accelerazione dell'espansione dell'universo noi sappiamo che attualmente l'universo si espande accelerando quello che ci verrebbe da pensare è che poiché è la forza che domina nel nostro universo e la forza gravitazionale tutte le masse si dovrebbero attrarre e in qualche modo l'universo si dovrebbe contrarre in realtà non succede questo perché sappiamo che l'universo sta accelerando la sua espansione ci deve essere qualcosa che sta agendo in contrapposizione alla gravità e che per questo ha una gravità negativa perché noi sappiamo che la forza di attrazione gravitazionale è solo positiva perché noi sappiamo che le masse sono solo positive non esistono masse negative per cui l'energia oscura è questa entità è questa energia che permette all'universo di espandersi invece di contrarsi lo speciale di Halloween è finito e ci vediamo in un prossimo video ciao